Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Un latitante rumeno ricercato in mezza Italia è stato catturato a Pesaro dai carabinieri Mal tempo su tutta la regione, il forte vento ha causato disagio alla circolazione per la caduta di alberi e rami Il carburante finisce sulla carreggiata, un'auto dell'Enel va fuori strada, la scia lunga diversi chilometri La presidente dell'ente carnevalesca non va in commissione a relazionare sul bilancio, del vecchio l'accusa di scarsa trasparenza, lei si difende La nuova veste grafica del settimanale di Ocesano, il nuovo amico, presentato a Pesaro alla presenza del presidente della CEI Basset Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Un'importante operazione anticrimine svolta dai carabinieri di Pesaro ha portato all'arresto di un pericoloso latitante rumeno Un pericoloso latitante rumeno sul quale pendevano due ordini di cattura Uno del tribunale di Pesaro e l'altro della Corte d'Appello di Venezia Per associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni, furti nelle abitazioni, detenzione abusiva di armi e clonazione di carte di credito È stato catturato dai militari della compagnia e carabinieri di Pesaro Il nucleo investigativo dell'arma era da tempo sulle sue tracce ed avuta la certezza che si fosse trasferito dalla Romagna Dove cambiava spesso residenza nella nostra provincia con numerosi accertamenti e controlli I militari sono riusciti ad individuare l'auto con la quale il 48enne si spostava Una BMW Serie 5 presa a noleggio Nelle prime ore di sabato pomeriggio gli agenti del nucleo radiomobile l'hanno intercettata e bloccata lungo la statale 16 E condotto il latitante nel carcere di Villa Fastigi dopo aver avvertito della sua cattura la procura di Pesaro e quella di Venezia Ora l'uomo dovrà scontare 5 anni di reclusione per i reati commessi in Veneto, Trentino Alto Adige, Pesaro e Fano tra il 2011 e il 2012 E adesso la pagina del maltempo Durante la scorsa notte ce ne siamo un po' accorti tutti insomma perlomeno non solo chi ha il sonno leggero ma anche gli altri Il forte vento, il forte vento che ha causato disagi sulle strade di mezza regione Notte di pioggia e vento su tutta la provincia pesarese ed in tutte le marche Quella ben appassata con un vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sulla costa a partire dalle 23.30 Con raffiche di vento che hanno toccato anche gli 80 km orari L'aria fredda ha fatto il suo ingresso nella giornata di domenica sul nord Italia Regalando anche gelate in Piemonte e Lombardia E man mano si è spostato sul centro Italia e la pianura padana Vigili del fuoco in tutta la provincia da Pesaro a Fano e nell'entroterra Hanno avuto decine e decine di chiamate e le squadre hanno passato praticamente tutta la notte fuori Rimbalzando da una chiamata all'altra incessantemente Nessun intervento però particolarmente articolato Situazioni critiche non risulta nessun intervento del 118 Ma tanti piccoli interventi, per lo più rami caduti sulle auto parcheggiate O sulla carreggiata come a San Bartolo Vergineto o a Ronco e San Bacio O come a Candelara, dove la caduta rami ha causato l'interruzione dell'energia elettrica Con conseguenti blackout a Singhiozzo Interventi significativi sulle strade interne e sulla panoramica in direzione Gabice Rimanendo sulla costa, anche nell'Anconetano C'è stato il flagello del vento forte con i vigili del fuoco Che hanno eseguito una trentina di interventi Stessa sorte nel Fermano, dove oltre ai rami di cinque grossi alberi I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcune impalcature pericolanti Ora il bottice depressionario ha lasciato in queste ore le regioni centro-settentrionali E si sta dirigendo a sud, dove già da domani il medio-basso Adriatico E le regioni meridionali subiranno piogge forti e mareggiate con venti da nord-nord-ovest La polizia locale di Fano, su disposizione del comandante di Quirico Sta intensificando i controlli su tutto il territorio comunale Sabato sera una pattuglia ha rintracciato e recuperato un'auto Un vecchio modello di un appunto di colore grigio rubato alcune settimane fa a San Costanzo Gli agenti, mentre erano in servizio in zona trave a Fano Hanno fermato la vettura con due uomini a bordo Ma alla richiesta di documenti, i due si sono dati alla fuga E la pattuglia ha iniziato un inseguimento Riuscendo a bloccarli in un vicolo cieco in via Pagano Dunque quando le persone a bordo si sono viste alle strette Si sono dileguate a piedi nei campi circostanti Facendo perdere le proprie tracce L'auto è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario Il carburante finisce sulla carreggiata E causa un fuoristrada ad un mezzo dell'Enel E' successo nelle campagne fanesi Un esteso sversamento di carburante In un punto particolarmente insidioso della carreggiata Ha costretto il pronto intervento della polizia locale A far eseguire un'operazione di bonifica della sede stradale Da una ditta specializzata Il tratto di strada interessato di oltre 2 km E' quello della strada per Carignano In corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Pontevarano In località Prelato Dove una macchia particolarmente lunga di cherosene Forse anche di un paio di chilometri Ha messo in serio pericolo la sicurezza stradale Questa mattina poco dopo le 9 Quando a causa del manto stradale reso viscito dallo sversamento Anche un mezzo 4x4 dell'Enel Ha perso il controllo finendo fuoristrada Dalla parte opposta al senso di marcia E sarebbe stata una carambola continua Se gli agenti della Pottuglia Non avessero attivato la ditta specializzata Che per questo tipo di operazioni Ha lavato con sostanze detergenti specifiche L'asfalto nei punti di maggior rischio E sparso su tutta la carreggiata Il filler Come si usa anche nei circuiti di Formula 1 Per assorbire la sostanza E aumentare l'aderenza dei pneumatici Da sottolineare la professionalità Degli operatori della pulizia ambiente Che hanno operato in maniera del tutto gratuita E con coscienza In quanto mentre negli incidenti stradali Queste bonifiche vengono pagate Dall'assicurazione del mezzo incidentato In questi casi Non avendo il comune di Fano Stipulato alcuna convenzione Per queste evenienze Nessuno gli paga l'intervento I vigili urbani sono stati avvertiti Della situazione pericolosa Dallo stesso equipaggio del fuoristrada E grazie a questo Nessun altro veicolo ha corso rischi Ora resta da appurare l'origine Dello sversamento E chi lo ha effettuato Dato che per estensione e quantità Non può essere ricondotto A un mezzo Qualsiasi tipo un'automobile Ma a mezzi di dimensioni più grandi Forse anche una piccola cisterna Che rifornisce di carburanti Le aziende agricole circostanti Su questo ora indaga La polizia locale di Fano Poste Italiane afferma in una nota Che nelle province di Ancona Peso Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Non si registra nessuna emergenza Sugli uffici postali La precisazione arriva in seguito Ad una dichiarazione Della deputata del Movimento 5 Stelle Patrizia Terzoni Non è intenzione dell'azienda Si legge produrre iniziative Che vadano ad impattare Sugli uffici postali Luoghi che tradizionalmente Sono punti di riferimento Per l'erogazione di servizi Dedicati ai cittadini All'impresa e alla pubblica amministrazione Gli interventi collegati Con la riforma del servizio postale universale Come previsto dalla delibera Dell'Agicom Sono ancora in fase di valutazione La Presidente dell'ente carnevalesca Risponde agli attacchi Del consigliere comunale Davide Del Vecchio Di scarsa trasparenza E di non voler mostrare i bilanci Dell'ente che presiede Alla Commissione Garanzia e Controllo Presidente, allora in questi giorni C'è stato un, così, sulla stampa Un battaggio sul discorso Che la carnevalesca non ha risposto Alla chiamata della Commissione Controllo e Garanzia Ma in realtà come stanno le cose? Dunque, proprio perché C'è stato un articolo un pochino forviante E dove si volesse far credere Che noi non volevamo andare Allora vorrei fare delle precisazioni Intanto, noi non siamo L'ente carnevalesca è un'associazione culturale Senza scopo di lucro Come tante ce ne sono a Fano Quindi non siamo assolutamente Obbligati ad andare In nessuna Commissione di Garanzia Ovviamente, per rispetto ai cittadini Siamo andati a giugno E ci riandremo Assolutamente Quando, dopo il 30 di novembre L'Assemblea dell'ente carnevalesca Avrà approvato il bilancio Consuntivo 2017 Come era richiesto dalla Commissione Io ho avuto questa Richiesta di andare in Commissione L'11 di ottobre Il 12 ho risposto Che sarei stata disponibilissima Ad andare dopo il 30 di novembre Questo perché? Perché non è consentito Nemmeno dalla legge Che io vada Ad esporre Dei conti Di un ente privato Fuori Fino a che I soci dell'ente carnevalesca Non hanno approvato il bilancio Ma proprio non lo posso fare E non è corretto farlo Per rispetto dei soci Se qualcuno lo vuole sapere prima Facesse la tessera Il 30 di novembre viene l'Assemblea E lo saprà in anteprima Ma per quanto riguarda il resto Tutto quello che è stato approvato Tutto quello che è stato già approvato Tipo il bilancio di previsione 2018 Che lo stesso mi era stato chiesto Dalla Commissione È già sul sito da più di una settimana Quindi è già visibile E quindi non trovo Perché strumentalizzare La carnevalesca a livelli politici Quando il carnevale di Fano È patrimonio di tutti Non è di nessun partito politico Il 19 di ottobre Ho fatto richiesta Alla Presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi Di andare in Consiglio Comunale A dare tutte le informazioni Sui bilanci della carnevalesca Quindi ho fatto di più Questo per dire Quanto non abbiamo Nessunissimo problema Però sempre Dopo il 30 di novembre Perché nemmeno al Consiglio Comunale Andrò prima Sala aggremita A Pesaro Per la presentazione Della nuova veste grafica Del settimanale diocesano Il nuovo amico Alla presenza Del presidente Della Cegna Il nuovo amico Cambia pelle Ma non la sua missione Che resta invariata Ed è la stessa Che la Chiesa Oggi sotto la guida Di Papa Francesco Annuncia da sempre E che al centro Pone il messaggio Di speranza Che solo una buona notizia Può suscitare Lo fa da sempre Con il Vangelo E tenta di farlo Anche nella società odierna Con gli strumenti Che la tecnologia Mette a disposizione Oggi più che mai Nell'epoca Del tutto condiviso E questa speranza Si rende più che mai Necessaria per non finire Nella spirale Dell'ansia E della paura Generalizzata E il nuovo amico Serve anche a questo A favorire la circolazione Delle buone notizie Il restyling Del settimanale diocesano Tra i più longevi D'Italia È stato presentato Sabato scorso Nello splendido Auditorium Pedrotti Del Conservatorio Rossini di Pesaro Alla presenza Del presidente Della conferenza Episcopale italiana Il cardinale Gualtiero Bassetti È l'unico modo Per superare Anche questo individualismo Che sta soffocando La società di oggi La gente è in una solitudine Terribile E quindi anche La stampa Anche i mezzi di comunicazione Anche notizie buone Che possono infondere speranza Sono veramente Una medicina salutare Anche per il tempo In cui viviamo Un tempo in cui Si tende a dividerci Su tutto Dalla politica A tutto il resto Ecco Qualche cosa che unisce Qualcosa che fa comunione È veramente importante E in fondo Anche dal loro punto di vista I mezzi della comunicazione sociale È una testata Che abbraccia più diocesi Più città È significativa A fare gli onori di casa Giorgio Girelli Presidente del Conservatorio Rossini Che ha donato una pergamena Di musica sacra Al cardinale Il quale ha ricordato La nomina cardinalizia E ha rivelato Che il Papa Gli ha segnato La basilica di Santa Cecilia Dicendogli E adesso Impara a cantare Presenti anche I tre vescovi Delle diocesi Qui fa riferimento Il settimanale cattolico Piero Coccia Di Pesero Giovanni Tani Di Urbino Armando Trasarti Di Fano A moderare gli interventi L'onorevole Ernesto Preziosi Nel corso della mattinata Sono intervenuti Il magnifico rettore Dell'Università di Urbino Vilberto Stocchi Il giornalista di Avvenire E il presidente Della Fiscia La Federazione Italiana Dei Settimanali Cattolici Il nuovo amico È uno strumento Di riflessione Per credenti e nonna Detto il sindaco Di Pesero Ricci Intervenuto Nel corso del convegno Dal 1903 anno Di fondazione del giornale Molta acqua è passata Sotto i punti E tanta strada È stata fatta Ed è stato toccante Assistere al passaggio Di consegne Tra lo storico direttore Che per 32 anni Ha diretto il giornale Don Raffaele Mazzoli E Roberto Mazzoli A cui è stato affidato L'artuo compito Di rilanciare Il settimanale Su tutto Il territorio provinciale A proposito Tra i due Mazzoli Nessuna parentela Solo un caso Di omonimia Dopo la testimonianza Di un ex carcerato Redattore della rubrica Appenna libera tutti Scritto dal carcere di Pesero E gli interventi Degli insegnanti e studenti Del liceo Mamiani Il convegno si è concluso Con un concerto Degli studenti Del conservatorio Rossini E il buffet Offerto dalla Coldiretti provinciale Andiamo per un attimo A vedere le immagini Della strada di Orciano Quella dove un tempo C'era l'immensa Enorme voragine Che come potete vedere Da queste primissime immagini È stata sistemata Ed è quasi chiusa Queste immagini Arrivano dal sindaco Antonio Sebastianelli E dunque dimostrano E testimoniano Come i lavori Stiano andando avanti Speditamente Dunque nelle prossime settimane La strada potrà essere Riaperta Ammonta a 500 mila euro Lo stanziamento Della regione Marche Che ha destinato La realizzazione Degli espropri Indispensabili Per far ripartire I lavori Del secondo stralcio Della variante Di San Lorenzo In campo Ad annunciarlo È il vice presidente Del consiglio regionale Componente della commissione Bilancio Renato Claudio Minardi Con la variazione Di bilancio Il consiglio regionale Ha stanziato Martedì scorso 500 mila euro Per la realizzazione Degli espropri Per la realizzazione Del secondo lotto Della variante Di San Lorenzo In campo È un'opera importante Questa Che rischiava Di essere un'incompiuta Perché La viabilità Sulla strada cesanense Sulla strada pergolese Ha una sua complessità Una strada Molto trafficata Nel centro di San Lorenzo In campo Ha delle problematiche Piuttosto serie L'opera Era stata realizzata Nel primo stralcio Nel primo lotto Da parte della provincia Di Piesa Urbino Poi il blocco Delle risorse Dovuto al patto Di stabilità Non ha consentito La realizzazione Della seconda parte Dell'opera E quindi Il completamento Della stessa Ho seguito Con il sindaco Con l'amministrazione Comunale Ma anche con gli altri Amministratori Del territorio Questo problema E siamo arrivati Alla conclusione Di stanziare Le risorse Che sono andate A bilancio Proprio Martedì scorso Per completare L'opera Quindi l'opera Sarà completata E con i 500 mila euro Sarà possibile Da subito Espletare Gli espropri Che altrimenti Sarebbero andati A scadenza La banca Di credito Cooperativo Ha organizzato Un incontro pubblico Sul tema Della previdenza Integrativa Con esperti Del settore Del settore bancario E previdenziale Se io sottoscrivo Un fondo pensione azionario Il 26 si terrà Un convegno Importante Quali sono le ragioni E lo scopo Di questo convegno Beh le ragioni E lo scopo Di questo convegno Naturalmente Sono perché vogliamo Informare i nostri clienti I nostri soci Sull'importanza Di avere Una previdenza Complementare Oltre alla previdenza Pubblica Tutti quanti sappiamo Quanto oggi Sia difficile Contare sulla previdenza Pubblica Per mantenere Un tenore di vita Nei prossimi anni In linea con quello Che si è avuto Durante l'età lavorativa Per cui il nostro obiettivo È dare comunicazione I nostri soci I nostri clienti Sull'importanza Di questo Di questo fatto Iniziare fin da giovani È fondamentale Bisogna farlo Per avere a disposizione Poi quando si sarà In pensione Una previdenza Un'integrazione Alla pensione pubblica Chi sono i relatori Del convegno? Avremo la nostra SGR BCC Risparmio e Previdenza Con la quale collaboriamo Chiaramente da molti anni Inoltre avremo un avvocato Alessandro Bugli Che collabora con noi Su queste problematiche Il convegno si terrà Al Tagotel A Bellocchi Il 26 di ottobre Alle 17.45 Per iniziare poi alle 18 È possibile partecipare Per chiunque È necessario registrarsi In quanto abbiamo a disposizione Una sala chiaramente E quindi i posti Non sono illimitati Quindi chiunque vuole partecipare È sufficiente Iscriversi tramite Il nostro sito internet Piuttosto che telefonare A qualsiasi nostra filiale E adesso parliamo di sport La linea passa a Matteo Del Vecchio Della redazione sportiva Non si apre con il calcio La pagina sportiva di questa sera Perché come sapete L'Alma non è scesa in campo ieri Per via delle note vicende Legate alla società del Modena In attesa di conoscere Se la gara sarà recuperata O sarà data la vittoria A tavolino al Fano Parliamo di volley Con la G-Bam Virtus Che sabato a Forlì È scesa in campo Per la seconda giornata Di Serie B I ragazzi di Mister Radici Non riescono a bissare Il successo del debutto E cadono per 3-1 Sul campo della Celanese Forlì La G-Bam Esce comunque a testa alta Dal parchero Magnolo Tenendo testa gli avversari Che trascinati da un immenso Sirri Allungano nel primo e terzo set Fano approfittando di un certo calo Dello stesso Sirri Gioca bene nel secondo In cui emergono le bocche da fuoco Lucconi e Maier Mentre il muro di Stoico Fa la differenza La svolta arriva nel quarto set Quando i fanesi non riescono Ad amministrare il 20-16 E permettono ai padroni di casa Di rimontare e fare bottino pieno E a fare bottino pieno Sono state anche le formazioni fanese Impegnate nei campionati di calcio a 5 Partiamo dall'Alma Che al termine di una partita Forse sofferta più del dovuto Piega la resistenza del Goccia Perugia Per 5-4 E si ritrova in vetta La classifica con 7 punti in tre partite Ad iscrivere il proprio nome Sul tabellino dei marcatori Sono Damiano Giuliani Alessio Patrignani E Niccolò Copparoni Quest'ultimo autore di una doppietta Esulta anche l'etabeta Che spugna il campo Del Torre Savio Cesena Per 6-3 Trovando così La prima vittoria stagionale Dopo un primo tempo Sostanzialmente equilibrato E chiuso avanti per 2-1 Grazie alle reti di Pietrelli e Bey I ragazzi di Mariotti Effettuano l'allungo decisivo Nella ripresa Portandosi sul 5-1 Grazie ai gol di Etai Bey e Pazzaglia La reazione dei padroni di casa Porta a due segnature Ma nel finale ancora Bey Chiude la pratica Facendo salire il team Del presidente Simone Serafini A quota 4 A completare l'unplay del futsal Ci pensa il Flaminia femminile Che nel campionato di Serie A2 Torna da San Giovanni Per Siceto Con in tasca i tre punti Ai danni del decima sport Anche in questo caso 6-3 il risultato finale Con doppiette di Martina Mencaccini E Sara Berti E sigilli di Elisa Magnanti E Valentina Falcioni Chi invece non riesce a trovare La via della vittoria In questa stagione Il fano rugby Al quarto stop consecutivo Nel campionato di C1 La squadra allenata dal tandem Walter Colaiacomo E Franco Tonelli Perde in casa per 23-30 Contro la polisportiva Abruzzo Dopo una gara dominata Per larghi tratti Come dimostra il 20-10 Con cui i rosso-blu Chiudono avanti il primo tempo La dubbia espulsione Di Michele Primavera Al decimo della ripresa E la reazione ospite Danno vita ad una seconda parte Di gioco vibrante Che porta le due formazioni Sul 23 pari Ad un minuto dal termine Quando la polisportiva Abruzzo Trova la meta vincente Per conquistare i quattro punti Al Fano Ieri a bersaglio Con due mete e due calci Di punizione di Alessandro Gasparini E un drop di Marco Martinelli Va un punto di bonus Per aver perso Con meno di sette punti Di scarto Che si aggiunge A quello conquistato Due settimane fa Due punti totali Che lasciano i ragazzi Del presidente Giorgio Brunacci Ultimi in classifica A sette punti Dalla zona playoff Dove stazione San Benedetto Prossimo avversario Dei fanesi Domenica 29 ottobre E proprio domenica 29 ottobre L'ultimate frisbee Fano Andrà a Parma Per disputare I campionati di Serie A Ieri intanto La squadra Della presidente Maddalena Fatica E del responsabile tecnico Diego Signoretti Ha organizzato La fase finale Dei campionati di Serie B Con l'arrivo a Fano Di oltre 200 giocatori In rappresentanza Di 12 squadre Provenienti da tutta Italia A vincere E salire in Serie A Sono stati L'extra dry di Venezia E il bifre di Torino Ma la cosa più importante Sono i complimenti Giunti all'associazione fanese Da parte Della federazione italiana Flying Disco E dell'assessore allo sport Caterina Delbianco Presenta le premiazioni E chiudiamo l'appuntamento Sportivo di stasera Mostrandovi le immagini Della partenza Della gara podistica Organizzata ieri Dalla Fano Corre Abbinata al terzo trofeo Lamberto Tonelli Oltre 700 i partecipanti Per una manifestazione Che ha coinvolto Per un'intera mattinata Il Centro Storico e il Mare Con partenza direttamente Da Piazza 20 Settembre A seguire la gara C'erano anche le telecamere Di Fano TV Che i prossimi giorni Trasmetteranno uno speciale Dettagliato sull'evento Bene, grazie Matteo Delvecchio Allora ricordiamo Che tutte le immagini Che avete visto Nella rubrica sportiva Sono state gentilmente fornite Nella maggior parte dei casi Dalle società Che naturalmente ringraziamo Di vero cuore Perché contribuiscono Insieme a noi A fare informazione Appunto locale e sportiva Speriamo che miglioreremo E miglioreranno Nel corso delle prossime settimane Ce la metteremo tutta E sono convinto Che ce la metteranno tutta Per ora insomma Accontentiamoci di quello Che passa il convento Intanto invece adesso Andiamo a vedere La fotografia Perché dobbiamo festeggiare Antonio e Delvira E allora sono Antonio Rocconi E Delvira Enea Che 50 anni fa Nella chiesa di Torre San Marco Nel comune di Fraterose Si sono uniti in matrimonio Ieri invece domenica Domenica nella chiesa di Santa Polinare A Lucrezia Hanno festeggiato Hanno festeggiato Assieme a tutti i familiari Il loro cinquantesimo anniversario Di matrimonio E allora ci uniamo anche noi Di Fano TV E facciamo ad Antonio e Delvira I nostri migliori auguri Il telegiornale è finito Ci vediamo domani mattina Alle 7.30 Con occhio ai giornali La rassegna stampa In diretta appunto alle 7.30 Questa edizione Come sempre È disponibile anche Sulle nostre pagine Facebook Grazie per averci seguito Buona serata Grazie a tutti